Buongiorno e benvenuti. Questa è Tre Domande, il format di Varese News che intervista i candidati sindaco nelle maggiori città in vista dell'appuntamento elettorale del 3 e 4 ottobre del 2021. Oggi siamo con Sonia Serati, candidata sindaco a Gallarate con una piccola coalizione di due liste distinte. I quartieri sono un elemento centrale dell'identità di Gallarate. Nella progettualità già emersa nell'amministrazione uscente c'è una nuova centralità che tocca soprattutto alcuni quartieri. Quali progetti avete invece in mente per le diverse parti della città? L'idea nostra è quella di adattare alcune vie per dare la possibilità ai più giovani di trovare degli spazi adeguati ad attività sportive, ricreative e anche per l'istruzione di favorire l'insediamento di mercatini alimentari settimanali. Agevolando questo tipo di funzioni possiamo rivitalizzare la vita dei quartieri aiutando anche le attività economiche che sono ancora in minima parte presenti assicurando loro degli idonei spazi per la somministrazione di alimenti e servizi. Si tratterebbe in particolare di rivedere l'utilizzo e la circolazione di alcune strade e piazze in prossimità degli edifici scolastici per creare aree per la didattica all'aperto, per lo sport, per il gioco. Si propone per esempio di istituire sportelli comunali, chiamiamoli volanti, ossia che possano effettuare una certa gamma di servizi all'interno di ogni rione per almeno 4 ore settimanali in modo da diminuire la pressione sugli uffici centrali e anche di facilitare le persone anziane che sono ancora costrette a doversi spostare il municipio per ogni necessità. A titolo di esempio posso citare il rione di Crenna con la piazza della Repubblica dove c'è il nostro bellissimo belvedere dove si possono organizzare per esempio degli street food con degli operatori però presenti nel rione allestendo loro dei tavolini e delle aree di svago. I ronchi, una creazione di un percorso di verde dedicato all'attività ludica, sportiva e didattica che leghi il parco Bassetti, Aloisianum, Gadda Rosselli, il parco di Via delle Rose, Camolet, il parco di Via d'Aosta e le aree boschive della nostra città. Cajello con per esempio avviare in collaborazione con il parco del Ticino per le strutture e gli spazi che ci sono già a Monte Diviso per esempio a fini didattici con attività all'aperto piuttosto che abbiamo dei bellissimi progetti Erasmus con le nostre scuole, lì a Monte Diviso c'è una bellissima struttura che potrebbe accogliere e fare gli scambi. A Madonna in Campania, ultimissimo punto, trasformare per esempio la Via di Madonna in Campania in un boulevard alberato attraverso la riduzione della gareggiata, l'allargamento dei marciapiedi con una creazione di zone di sosta ombreggiate coinvolgendo dove è possibile ovviamente gli spazi che affiancano sulla strada, quindi le scuole, l'oratorio, il centro commerciale. È d'accordo con il progetto dell'ospedale unico e nel momento in cui dovesse concretizzarsi questo progetto ritiene importante che alcuni servizi di prossimità restino a Gallarate, se no perché, se sì invece quali servizi? A noi serve una figura che possa portare ad alta voce quelle che sono le necessità della nostra città. Prima di parlare di ospedale unico quindi bisogna prendersi carico tutti noi cittadini della situazione dell'ospedale di Gallarate, perché i medici che si trovano nelle nostre corsie oggi si trovano a sostenere dei turni di lavoro intollerabili. Questi signori e queste signore salvano vite, i nostri operatori sanitari di Gallarate stanno vivendo un ambiente lavorativo di importante gravità e peso. Abbiamo le strumentazioni che non vengono sostituite, abbiamo le apparecchiature che non vengono rinnovate, c'è un depauperamento totale dell'ospedale. È vero, il sindaco non può prendere decisioni in ambito sanitario ma se avesse la capacità e la dote di relazione potrebbe e dovrebbe soprattutto andare a dibattere, a chiedere di prendere delle decisioni a sostegno del nostro ospedale. Un ospedale d'eccellenza piace a tutti, quindi noi non diciamo no a un ospedale d'eccellenza capace di rispondere alle macro richieste che arrivano da tutta l'area vasta, quindi della stessa impione. Certo a noi cittadini gallaratesi interessa sapere cosa resterà, quindi una parziale conservazione delle attuali strutture deve essere il primo punto, quindi i padiglioni meglio mantenuti devono poter essere ripensati, poter ospitare servizi legati alle nuove esigenze di salute rendendoli flessibili, adattarsi a situazioni di continua evoluzione, per esempio i ricoveri più leggeri, piuttosto che tutto quello che è il nostro pronto soccorso. Noi siamo per mantenere il pronto soccorso a Gallarate. L'ex officine FS e il casermone e appunto anche eventualmente l'ospedale. Quali scelte prevedete su queste aree dismesse? Sarà necessaria una revisione del piano di governo del territorio? Noi abbiamo un'idea chiara su queste aree. L'ex caserma e sedime ferroviario rappresentano la spina dorsale su cui costruire e disegnare una Gallarate del futuro. Per esempio creare un tecnopolo di sinergia tra swap e settore urbanistica, dove dovrà nascere un nuovo ufficio di scopo con il compito di dar vita al progetto ambizioso della city gallaratese. Tra gli obiettivi della rigenerazione delle aree ex aeronautica e del sedime ferroviario dismesso dovrà trovare spazio la creazione per esempio di un concreto modello di smart city, la cui struttura supererà le logiche della città attuale, quindi parcheggi standard urbanistici e via dicendo, concentrando l'attenzione sul trasporto pubblico, i servizi di qualità, una vera e propria area di sperimentazione continua, per esempio una sport city, un'area che potrebbe anche diventare attrattiva per tutti quelli che sono i comuni esterni. In alcuni ambiti il nuovo ufficio del tecnopolo dovrà disegnare, assegnare gli spazi adatti a ospitare start up, aziende di alto contenuto innovativo e società che collaborano, forniscono servizi per l'innovazione, ma anche pronto ad accogliere, ad ascoltare tutte quelle che sono le proposte, le iniziative dei cittadini che verranno a dare il loro contributo. Grazie per la visione!